Buongiorno a tutti ragazzi sono Gilbe e sono qui oggi tornato dopo ben due mesi a portarvi il video in cui vi mostro il mio portafoglio Prima di partire però ci tengo a scusarmi per l'assenza però purtroppo ho avuto dei problemi in famiglia e non sinceramente non me la sentivo di portare avanti il progetto youtube Quindi mi sono preso i miei due mesi di pausa adesso ricomincio e soprattutto in questi due mesi si hanno pubblicato su youtube ma ho continuato a lavorare ad un progetto che ragazzi avete qua sotto Ovvero il sito internet dove potrete comprare alcuni prodotti che ho messo in vendita insieme ad un mio collega e amico infatti tramite link di iscrizione potrete andare su questo sito qua Potrete accedere alla sezione founders dove potrete leggere i nostri curriculum per chi non lo sapesse su questo sito qua potrete comprare un po' di prodotti che abbiamo messo in vendita Tra i vari prodotti ci sarà anche l'accesso al mio portafoglio che è molto molto interessante perché oggi io essendo che non se lo sapete però io ho un portafoglio con tante azioni ho in cerca 66 posizioni E nel caso in cui non sapeste qual è il mio stile di investimento ho fatto un video riguardo Comunque oggi vi farò vedere le cose un po' più caratteristiche ovvero magari la mia divisione settoriale la mia divisione geografica Magari vi faccio vedere le 10 posizioni più grandi che ho le 10 dove sto guadagnando di più e le 10 dove perdo di più Vi faccio vedere una roba del genere però se volete avere l'accesso 24 ore al giorno 7 giorni su 7 potete trovarlo andando su questo sito qua e comprando appunto il portafoglio Oltre a questo potrete anche iscrivervi alla newsletter dove io e insieme al mio collega vi invieremo ogni lunedì le 5 aziende su cui abbiamo investito E vi daremo anche il price target ad un anno che abbiamo noi e soprattutto anche il prezzo al quale siamo entrati noi Oltre a questo abbiamo anche questo pacchetto qua che vi permette di accedere a tutti e questi 4 pacchetti Quindi comprando questo avrete accesso a tutti e questi 4 prodotti qua Oltre però a questi 2 prodotti qua abbiamo anche creato che secondo me ragazzi questo è il fiore all'occhiello di questo sito qua Però ovviamente io ve ne parlerò meglio in un prossimo video questo qua è solo una breve intro Abbiamo creato dei fogli nei quali voi avrete il rating che abbiamo dato noi su varie tipologie di aziende Ad esempio se voi comprate questo prodotto qua ovvero il rating portfolio Finbuddy che siamo appunto noi Avrete accesso alle nostre 30 aziende del portafoglio e noi vi faremo vedere qual è il rating dello stato patrimoniale di queste aziende qua Il rating del conto economico, la rating sull'analisi tecnica e anche il rating sul momentum dell'azienda Oltre a questo avrete anche un price target a 5 anni nostro e vi diremo anche se potenzialmente queste aziende qua Attualmente si trovano in un periodo di sopravvalutazione o sottovalutazione Comunque in descrizione trovate il link per accedere a tutti questi prodotti qua Se avete piacere di acquistarlo fatemelo sapere che magari vi do anche qualche consiglio su quali prodotti secondo me conviene acquistare Anche in base alle vostre esigenze Vi parto quindi a far vedere qual è la mia suddivisione geografica del portafoglio Come vedete io sono sovraesposto agli Stati Uniti Infatti ho una percentuale del portafoglio sui states di all'incirca 85% Poi ho una posizione del 10% circa sulla Cina Un 1% sul Canada Un 1% sull'Olanda Un 1% ancora su Israele E all'incirca il 2% sulla Svizzera Che però in realtà è solo la posizione che ho in Logitech Per quanto riguarda invece la suddivisione per settori Sono sovraesposto alle aziende tech Infatti ricoprono all'incirca un 33% Poi ho alcune aziende per quanto riguarda il campo dell'e-commerce Che all'incirca valgono un 8% Anzi 9% Poi nel campo energetico ho all'incirca il 5% del portafoglio Per quanto riguarda invece un settore che io ho apprezzo tantissimo Ovvero quello FinTech ho all'incirca il 6-7% del portafoglio Per quanto riguarda invece il settore Finance Che appunto racchiudono magari aziende tipo le banche O assicurazioni o aziende di questo genere qua Ho all'incirca il 13% del portafoglio Poi per quanto riguarda le farmaceutiche ho un 7% Per quanto riguarda invece i semiconduttori Sono abbanza esposto infatti a un 10% circa del portafoglio E gli ultimi invece sono Industrial dove ho il 7,5% Rate il 3% Consumer all'incirca il 3,5% E per quanto riguarda invece i services ho all'incirca il 3% Ora passiamo però a quella che è la suddivisione totale del portafoglio Io sono super diversificato ragazzi miei Perché? Perché ho una strategia che attualmente mi permette di battere le semplici 500 Pur essendo tantissimo diversificato E nel caso in cui non sapeste quale sia la mia strategia La trovate in un video vecchio che avevo fatto Cercate semplicemente Gilbe strategia di investimento E gli spiego tutto Ovviamente adesso vi mostro le mie 10 posizioni più grandi Ovviamente vado a nascondere le altre cose che appunto Lascio per coloro che hanno intenzione di comprare l'accesso del mio portafoglio Anche perché in realtà io il portafoglio lo aggiorno almeno una volta a settimana O comunque ogni volta che compro lo aggiorno Quindi se avete piacere di comprare l'accesso Io vi consiglio di farlo perché lo aggiorno tantissimo E soprattutto è un bel file Come vedete la mia posizione più grande è Westrock Dove sto guadrando il 118% E attualmente ha un valore di circa 1000 dollari La mia seconda posizione più grande è Alphabet Che anche essa all'incirca occupa un 4,3% del mio portafoglio E ha un valore di circa 1000 euro Stessa cosa per JP Morgan E su entrambe sto guadagnando veramente tanti soldi L'azienda su cui ho investito di più in totale è Amazon Dove ho investito all'incirca 900 dollari E sto guadrando praticamente niente Perché sto continuando ad accumulare Io continuo sempre a comprare su Amazon Perché voglio che sia nella mia top 3 posizioni Insieme a Facebook e Alphabet Westrock come vedete Inizialmente non era la mia posizione più grande Però ci sto facendo il 118% Quindi è diventata la mia posizione più grande Poi come sapete io Nio ho un prezzo medio di 6,34 Però in realtà il mio prezzo medio dovrebbe essere molto più basso Perché io ho all'incirca 21 azioni Le ho comprate quando erano a 3 Così Però non ho mai avuto il tempo di incrementare Adesso che ho incitato a studiare tantissimo azienda Ho continuato a comprare un po' di azioni L'ho comprata una 18 Una 35 Un'altra 35 Quindi pian pianino sto aumentando il mio prezzo medio E sto aumentando anche la mia esposizione su Nio Attualmente occupa solo una posizione del 3,77% Però sono contentissimo Considerate che io avrei in realtà un profit loss All'incirca del 1000% sulle prime azioni che ho comprato Comunque sto continuando a comprare Microsoft invece sto guardando il 35% Sono all'incirca 200 dollari Facebook sto guardando il 131% E sto guardando il 20% Poi Nvidia sto guardando il 41% Bank of America sto guardando il 78% E Alibaba che è l'unica mia posizione nella top 10 Dove sto perdendo soldi Che in realtà occupa una bella posizione del mio portafoglio Cioè mi dà un po' fastidio il fatto che sia in perdita Però io continuo ad oldare perché per me è un'aziendona Alibaba Per quanto riguarda invece le 10 azioni su cui sto perdendo più soldi Abbiamo al primo posto Splunk Dove sto guardando all'incirca il 25% Il Pindu Duo dove sto perdendo anche qua il 25% Considerate che praticamente il 90% di queste aziende qua Di queste 10 qua Le ho comprate negli ultimi 2-3 mesi Per farvi capire quanto sono entrato male Infatti Peloton sto prendendo il 23% Arai sto prendendo il 22,5% Stonco sto prendendo il 16% Enphase sto prendendo il 15% Comunque tutte aziende che io reputo veramente molto molto interessanti Infatti non ho intenzione di vendere L'unica forse che non mi fa impazzire è Momo Però non la vendo semplicemente perché Continua ad essere veramente tantissimo sottorutata Cioè a questi prezzi qua secondo me non ha senso venderla E quindi me la tengo lì Non mi dà fastidio Tra l'altro lasciava pure anche i dividendi L'ho preso l'altro giorno Quindi va anche bene me la tengo lì Perché attualmente secondo me non ha senso venderla Ora però andiamo a vedere quali sono le 10 aziende su cui sto guadagnando di più E al primo posto abbiamo Neo Dove sto guadando il 417% Uplied Materials dove sto guadando il 137% Caterpillar dove sto guadando il 124% Westrock il 117% Carnival il 114% Morgan Stanley il 109% Delta il 104% Huntington Bankers il 102% American Express e Walt Disney sto guadando l'87% E l'86% E cosa potete vedere qua? Che le percentuali dove sto guadando di più Sono tutte o quasi aziende dove ho fatto il value investing Tra l'altro perché voi direte vabbè Neo non è un'azienda value Ma io l'ho comprata all'incirca un price to sales di 2% E per un'azienda che cresceva a quei ritmi lì è stato un colpo veramente molto molto value Quindi tendenzialmente gli errori Perché io la revisione del portafoglio non è che la faccio così per fare La faccio perché voglio andare a capire quali sono gli errori che ho fatto e che posso evitare di fare nei mesi successivi Una cosa che mi ha fatto capire molto riguardo al mio portafoglio Soprattutto vedere le posizioni dove sto guadando di più E' il fatto che i colpi migliori li ho fatti quando ho fatto il value investing E non il growth investing Dove magari tanta gente pensa di poter fare tanti soldi In realtà io sono convinto del contrario Che i migliori colpi si fanno quando si comprano a aziende top a prezzi top Perché ragazzi prima lezione che ho imparato è che potete anche scegliere l'azienda migliore del mondo Ma se la comprate è alta e quindi la comprate a un prezzo che tendenzialmente non ha troppo margine di sicurezza State pur certi che non guadagnerete tanti soldi anche se l'azienda è top E ora l'ultima cosa che voglio farvi vedere è il confronto che ho attualmente rispetto all'S&P 500 Come potete vedere il mio profit loss totale adesso è di circa 5.000 euro In percentuale è di circa il 36% in un anno Quindi l'ultimo anno ho fatto un 36% che è veramente molto alto come performance E l'ho fatto in pieno di accumulo perché considerate che io tendenzialmente investo un tot a settimana Se io però la stessa somma che ho investito attualmente quindi all'incirca 17.000 dollari L'avessi investita facendo all in il primo giorno nell'S&P 500 avrei ottenuto la performance del 48% Questo dato qua però non ha alcun valore semplicemente perché io 17.000 euro non avrei mai potuto investire il primo giorno Perché uno non li avevo proprio quei soldi lì Quindi lo tengo lì giusto per capire che rendimento ha avuto l'S&P 500 dal primo giorno che ho iniziato a investire E intendo il portafoglio pubblico perché ragazzi io questo portafoglio qua l'ho aperto mi pare il 14 aprile dell'anno scorso Quindi la performance dell'S&P 500 dal 14 aprile è stata del 48,53% Io ovviamente non avrei mai potuto fare all in il primo giorno che ho iniziato a investire perché non avevo appunto quei soldi lì Quindi semplicemente non lo tengo manco d'occhio Il mio benchmark ovvero l'S&P 500 fatto però in pieno di accumulo cioè investendo gli stessi giorni e la stessa somma che ho visto io Anziché sulle mie azioni l'avessi fatto sull'S&P 500 avrei ottenuto un rendimento del 32% Quindi attualmente sto battendo l'S&P 500 di circa il 4% E considerate che in realtà fino a un mese e mezzo fa stavo battendo l'S&P 500 di circa il 10% Poi ho fatto questi errori qua cioè investire in Splunk, Pinduoduo, Peloton, Array e questi qua li ho fatti tutti negli ultimi mesi e mezzo Tant'è che la performance in realtà sarebbe molto più alzarebbe all'incirca del 40% in un anno Considerate però che questa qua sarebbe la performance dell'S&P 500 se io avessi comprato appunto delle quote dell'ETF negli stessi giorni in cui io ho comprato personalmente tramite stock picking E per farvi rendere ancora più l'idea se io anziché scegliere personalmente i giorni in cui investire lo avessi fatto meccanicamente Cioè avessi investito ogni lunedì nell'S&P 500 la stessa somma avrei ottenuto un rendimento di solamente il 22% Che è un po' quello che fanno tutti cioè tendenzialmente chi fa i pieni di accumuli sull'S&P 500 lo fa magari una volta a settimana o una volta al mese E avrebbe ottenuto quindi un rendimento del 22% iniziando dal 14 aprile Mentre io ho ottenuto un rendimento del 36% quindi attualmente molto ma molto di più Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate Io penso che la strategia che ho adotto sia una strategia molto molto utile Ma io sono sempre pronto a cambiare idea ed è per questo che sono convinto che rivedere costantemente il mio portafoglio E mi aiuti a trovare sempre strategie migliori Considerate che la strategia che usavo 6 mesi fa non è la stessa che ho usato adesso Quindi io cerco sempre di evolvermi Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate E niente ragazzi ci becchiamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao